Siamo presenti come tutti gli anni al Trading Online Expo, siamo il leader di mercato e quindi non potremmo non essere qua. Direi che è il momento principale per chi opera sui mercati, questo, e ringraziamo Borsa Italiana per l'invito. Noi siamo ormai dal 2004, siamo il leader di mercato, siamo il numero uno con operatività crescente, con volumi che anno su anno aumentano e quindi il nostro sentiment è estremamente positivo, è estremamente positivo sulla crescita di questo mercato, sul fatto che utenti sempre più informati arrivino sulle nostre piattaforme ed utilizzino per andare a operare su tutti i mercati mondiali. Noi abbiamo dal mercato italiano al mercato americano, da azioni, futures, opzioni, tutti i prodotti che i nostri clienti possono desiderare per operare al meglio sui mercati e per gestire i loro investimenti e il loro trading.